Buonasera, io sono Angela Bianco, io sono Fabio Malomo, noi facciamo parte del nuovo progetto che mi vede accompagnare i Castrum in Quartet, siamo lieti di essere qui stasera per l'apertura della pizzeria De Moon. Ciao a tutti, io faccio parte dei Castrum in Quartet, abbiamo realizzato questo nuovo progetto con Angela, ospiti questa sera della pizzeria De Moon qui a San Mango d'Aquino.